Per cui ho chiesto in maniera netta che chi è responsabile di questa situazione venga espulso, venga assolutamente allontanato da Este, ma la mia richiesta è che venga espulso dall'Italia. Questa è la richiesta netta che sto facendo. Perché? Perché non è possibile che in una comunità che sta cercando di integrare i profughi, di fare in modo che trovino anche il modo per dire grazie alla comunità che li accoglie con dei lavori socialmente utili, volontari che vanno a fare, poi si vadano a inscenare queste situazioni. È francamente inaccettabile. È una furia al sindaco di Este. La manifestazione che i rifugiati hanno inscenato ieri pomeriggio bloccando la strada regionale non gli è piaciuta per niente e ora ne chiede l'espulsione, non solo dal suo comune, ma da tutta Italia. Vedere certe proteste, dice, ammina il percorso di accoglienza che da mesi si sta costruendo nel capoluogo a Testino. Rispetto alle richieste che hanno fatto, che riguardano il vitto, che riguardano le condizioni dell'alloggio, a mio modo di vedere meritano di essere espulsi dal suolo nazionale in maniera netta e chiara. L'accoglienza deve esserci, continua il primo cittadino, esponente di spicco del PD provinciale, ma i ragazzi che sono alloggiati nel nostro comune devono ringraziare, devono ricambiare la comunità che gli dà ospitalità. Oggi il traffico scorre regolarmente sulla regionale 10. I richiedenti asilo sono rimasti all'interno dell'istituto Manfredini e non hanno voglia di raccontare la loro versione. Nemmeno i responsabili della cooperativa che gestisce l'accoglienza vogliono parlare. Tre dei 19 profughi che ieri hanno dato vita alla manifestazione spontanea sono stati allontanati, ci conferma il primo cittadino. I fatti di ieri hanno però scosso la comunità, non tutti si dicono disposti ad accogliere altre persone. Cosa che penso è chi va a casa, chi torna in rio e devono salare le porte. Non si sa come neanche comportarci a volte e loro capiscono che sono su un paese diverso e devono anche comportarsi in maniera diversa. Continuano a arrivare, dopo giustamente loro hanno delle esigenze, però non è che si possa andare avanti così.